Siamo con mister Tufano della società La Rocca, la sua squadra oggi ha impressionato per la mole di gioco, per i tanti gol che hanno effettuato e anche perché i ragazzi sembrano davvero molto vimpanti. Diciamo che questo è il nostro trionfo, non il numero dei gol, è il trionfo sociale perché il calcio è soprattutto sociale, è bello vincere ma soprattutto vederli tutti insieme, i genitori, i nonni e soprattutto un ringraziamento all'organizzazione che ci ha reso partecipi di questo evento. Diciamo che a questo punto la sua squadra che comunque fa parte di una società che ha sempre fatto bene dal punto di vista giovanile, qual è l'obiettivo che vi proponete nel lungo periodo? Aumentare il numero degli iscritti perché condividere anche nel settore extracomunitario perché il mondo è di tutti e la terra è in ogni parte nutrice.